In diretta, con una nuova diretta dedicata alle sfogliamo insieme le nuove riviste della bottega di Elisa, ne sono arrivate ben due, una è un manuale riassuntivo con 30 progetti e questo invece è quello speciale di Natale del 2023, appena appena arrivato e disponibile anche su prenotazione. Questo viene 6,90€ e questo 7,90€. In ogni rivista sono inclusi anche i cartamodelli, adesso li sfogliamo insieme appena arrivate e poi vi facciamo vedere mentre sfogliamo i progetti anche i materiali che sono stati usati. Noi siamo rivenditori della bottega di Elisa, è arrivata anche la tag, grazie Elisa e Cristina e quindi mentre poi vi spiego vi mostro anche le varie tag, cornici, iniziali e quant'altro. Le iniziali sono appena tornate, quindi per chi ce le aveva ordinate adesso vi scriveremo in giornata e per chi invece desidera acquistarle insomma sono già tutte disponibili e mentre poi vi faremo vedere tutti i tessuti usati insomma nella rivista. Ok? Quindi se mi vedete e mi sentite direi di iniziare. Questo è il pannolana, la bella costa, lo spalmato amore e il nuovissimo lussoso che è appena arrivato nella tonalità marrone. Adesso vedremo perché. Allora per prima vi faccio vedere i progetti che troverete nella rivista di Creare con Elisa, speciale Natale, questa qua. Come vedete sono state fatte delle pignette stupende, poi vi spiegheremo tutto. Ci sono come nuove fustelle quella del Daddy di cui sarà disponibile anche il fustellato, la stella alpina, questa è disponibile sia la fustella che a breve anche il fustellato. Poi è stato usato parecchio tralcio, tanto spalmato amore perché è stupendo. Adesso poi le spiegazioni le troverete. Il lussuoso. E questa è la fustella della Lady Di, quindi questa qua che è della My Love, scusate, questa. E con la My Love, per chi la volesse possiamo ordinarla, abbiamo utilizzato anche, l'abbiamo fatta anche noi ed è stata utilizzata anche per fare le pigne. Quindi guardate che meraviglia. Adesso nei prossimi giorni uscirà anche il tutorial di Elisa. Piano piano insomma usciranno tutte le varie novità. Comunque trovate spiegato tutto nella rivista, quindi mi raccomando non perdetevela. Qui è stata usata la base della Bella Costa con tutti i fiori in pannolana. Poi ancora l'albero di Natale con lo spalmato amore verde. Questa è la fustella della Tre Rose che abbiamo disponibile. Queste sono tutte le pignette stupende con i vari nastri decorativi e sono state fatte tutte con lo spalmato amore. Quindi i colori più usati sono, con il lussuoso, scusate, i colori più usati sono il marrone, il verde e il beige. Dopo vi faccio vedere tutti quelli che abbiamo. E poi anche le sfere di legno, quelle di Mirta. Qui per chi vuole c'è sia la My Love. Questo è un pezzettino di Via Margutta, di cui è disponibile anche di quello il fustellato che sta andando a Ruba. E questo invece è il tralcetto, una delle nuove fustelle che poi vi mostreremo. Qui poi troverete tutti i cartamodelli. Questo è un pezzetto di filotto invece. E insomma ce ne sono veramente tanti di progetti. Sia anche con le scatoline, con gli orzetti, le casine. Una più carina dell'altra. I materiali sono tutti disponibili, sia i fustellati che le basi. Quindi, insomma ragazzi, c'è da sbizzarrirsi. Questa è... Ah, poi ci sono anche queste. Che poi vi faremo vedere anche grezze, tra virgolette. Poi l'altro giorno abbiamo fatto anche la diretta dedicata alle vernici per creare questo effetto vintage. E le tag, insomma, sono disponibili in diverse tipologie e colorazioni. Questa è la Buon Natale che poi andremo a vedere. Il fiore è la Tre Rose. E poi c'è il tubo Larlana. Quindi, insomma, per chi viene in negozio o per chi desidera, può anche mandarci una foto del progetto. Così poi prepariamo una sorta di kit, diciamo. Vi prepariamo tutto l'occorrente per realizzarlo. Quindi, tra queste cose che ho utilizzato, sono principalmente il lussuoso, che è disponibile in questi sei colori. Il nuovissimo marrone, rosso, rosa, verde, beige e bianco. Questo, praticamente, l'abbiamo usato anche noi nel tutorial della tag. Eccolo qua. E' utilizzato con il nostro matastensil fogliamo. Quindi, qui noi abbiamo usato il rosso, però, insomma, per le pignette serve il marrone, il beige e il verde. Poi, ovviamente, il rosa e il rosso per i fiori va sempre bene. Non so se lo vuoi zoomare un po', che mi pare un po' lontano, per vedere bene i colori. Eccolo qua. Marrone, rosso, rosa, verdone, beige e bianco. Questo lo trovate già sul sito. Ci sono fogli da 50x70 a 8,90 euro. Passando di qua, ho usato anche lo spalmato amore, sempre di nastri di mirta. Di questo tessuto è disponibile anche il fustellato con tutti i fiori. Questo, nel dettaglio, è la tre rose, col colore beige. Il fustellato di questo fiore viene 3 euro, altrimenti, per chi volesse il tessuto sfuso, ci sono anche qui sei colori, quindi il latte, il beige, il rosa antico, il rosso, il verde e il polvere. Anche di questo, 50x70 cm, vi viene 7,50, quindi questo rimane molto bello e molto versatile, insomma. Continuando con i tessuti di mirta, abbiamo anche la bella costa, il verdone è il colore un po' più usato, che ha usato anche Lisa in un progetto che vi ho fatto vedere poco fa. Poi ancora abbiamo il rosa antico e il colore latte. Stessa misura, 50x70, vi viene 7,50, considerate che comunque 50x70 è un bel foglio, quindi riuscite a farci magari un paio di alberi, diversi fiori, c'è insomma parecchio materiale. Poi finiamo con i tessuti, vi faccio vedere il pannolana. Sono arrivati in settimana anche diversi altri colori, anche qui li zoomiamo, partiamo dal verde bosco, stupendo. Aspetta che è andato fuori fuoco, è peggio, ok. Il verde bosco, il verde muschio e il verde salvia. Poi abbiamo il marrone, testa di moro, c'è il tortore, vabbè è finito qua giù, dopo lo vediamo. Il rosa carne, il rosa cipria, il geranio, questo è un rosa malva antico, rosso ciliegia, rossa natale, tortora, sabbia e latte. Quindi, vedendolo da qui. Ciao Mary, il pannello di cartone è prestato? Sì sì, adesso ci arriviamo ai cartoni. Quindi questi pezzi qui sono disponibili in tagli da 50x150 a 11,90 euro. Anche qui potete fustellarli, se avete le fustelle, oppure vi diamo, insomma, i fustellati. Questa è la tre rose e questa è la lady D. E anche qui c'è l'imbarazzo della scelta con tutti i colori. Questo, ad esempio, è il filotto fustellato con il colore verde muschio. E invece questa è via margutta, fustellata, sempre in pannolana, con il colore rosa ciliegia. Rosso ciliegia. Adesso ci arrivo, Maria. E queste, invece, sono le ultime fustelle arrivate, oltre quelle, insomma, che avete già visto, di cui sono disponibili tutti i fustellati. Abbiamo la My Love, che è quella che useremo anche per le pigne, il tralcetto che è nuovo nuovo, questo viene 42 e questa viene, non mi ricordo, 65. Poi, questi sono i prezzi della bottega di Elisa, i prezzi di listino. La stellina viene 59 e la Trilogy, non mi ricordo. La stellina è praticamente la stella alpina, mentre la Trilogy viene 69 e riuscite a fare tre modellini di fiore diverso. Quindi, anche qui, per qualsiasi informazione, contattateci sempre su WhatsApp, il numero è 349-4656-229. Qualche articolo lo trovate già caricato sul sito, altrimenti lo trovate... Ah, e altrimenti lo potete trovare anche, insomma, contattandoci su WhatsApp. Stiamo facendo una promozione per chi acquista due fustelle a scelta, anche tra le DD, tutti i fiori, insomma, le tre rose e tutto. Vi diamo un taglio di pannolana in omaggio. Quindi, con l'acquisto di due fustelle a vostra scelta, della bottega di Elisa, avete un taglio di pannolana a vostra scelta, sempre della bottega di Elisa. Così ci potete fare i fustellati. Passando di qua, vi faccio vedere, per chi non le chiedeva, il pannelli di cartone pressato. Anche qui vi abbiamo messo i prezzi, che così è un po' più facile per tutti. Sì, perché questi non riusciamo ancora a caricarli sul sito. Sì, Luana, i tutorial delle fustelle li facciamo. Ne è appena uscito uno, ieri proprio, della sfera brillosa, dove... Adesso, se me lo accendi pure, ma un attimo... Dove abbiamo fatto vedere queste due sfere qui. Quindi mostriamo come assemblare la rosa 3D, in questo caso. Questa è la variante bianca e questa è la variante rossa. Qua, accesa. Eccola qui. Il kit di queste sono disponibili a 18,90 e includono tutto, anche il fustellato. Quindi, poi, mano a mano faremo vedere, di quelli che abbiamo i fustellati, faremo anche dei tutorial. E intanto, penso, lunedì faremo l'approfondimento sul tutorial, mi pare. Stavamo impostando prima il calendario, ma adesso un attimo. A memoria non ricordo. Poi, comunque, insomma, seguiteci su tutti i social. Acuna Matata Merceri Ancona, dove pubblichiamo tutti i vari aggiornamenti. Allora, e poi, vabbè, per qualsiasi informazione, se non trovate gli aggiornamenti, potete sia entrare sul nostro gruppo WhatsApp o comunque contattarci al 349-4656-229. Adesso prendiamo anche il foglio più grande, che così si vede meglio. Quindi, per quanto riguarda le decorazioni in legno, partiamo dalle tag della lettera. Questo è colore naturale. È tornato tutto l'alfabeto. Queste sono delle tag, saranno un 10x15, più o meno, già stampate, che è semplicissima anche da decorare. Qui abbiamo messo il fiore lussuoso rosso, con la Lady D. No, scusate, con la My Love. Questa è la lana in catena, panna e oro. E questo è il pic della nostra botanica, questo qua, nel colore oro. C'è anche rosso, quindi, insomma, potete sbizzarrirvi con poco. Queste tag vengono 6 euro e ce ne avete già ordinate tante. Ce ne sono parecchie disponibili, ma, insomma, se le volete già prenotare per Natale, siete in tempo. Poi, per quanto riguarda le tag quadrate, queste vengono 9,90. Al momento sono disponibili il Buon Natale con il villaggio, il Buon Natale con l'Arenna e questo senza scritte con l'abete, per chi lo vuole un po' più neutro. Queste tag quadrate da 9,90 misurano, mi sembra, 23, 23 per 23. Poi, passiamo a quelle grandi rettangolari. Da 15,90 c'è il Babone Natale gigante col Buone Feste. Se volete, potete anche fare uno screenshot di queste cose. L'abete neutro, che è stato già un po' invecchiato con la cera anticante. Per chi le volesse, sono disponibili anche sfuse. E questo è il villaggio base cartone, quindi base neutra, che si può poi decorare. Ah, c'è anche un'altra da quadrata. Grazie. Rettangolare, sempre da 15,90 con la scritta Buon Natale, con l'abete tutta bianca. La lana in catena, guarda, mi sono scordata di... Adesso ci arrivo, finisco qua, Luana, e poi torno dai tubolari. La tag ovale viene 13,90 e ci sono queste quattro fantasie qui. E di questa faremo il tutorial la prossima settimana. Non so ancora quando, ma lo faremo. E questo c'è Tutti i Babbi Natali con Buone Feste, Merry Christmas e la scritta Auguri, tutte abbastanza neutri. E l'alberone che c'è sempre perché rimane quello più neutro e qui ci potete mettere qualsiasi colore vogliate. Rosa, rosso, bianco. E questi vengono 13,90. E infine da 14,90 ci sono le tag con gli orzetti, super carine. Queste ci sono tre fantasie. C'è l'orsetto con la sciarpa rossa, l'orsetto più shabby e la famiglia era degli orzetti. Queste sono belle grandi, vi facciamo vedere un attimino come le ha usate Elisa. Ed è cascato, vabbè. Eccola qua, guardate che splendore. Con la cera anticante che date un po' questo effetto vintage. Qui lei ha usato la lana in catena ma potreste usare anche il tubolar lana che ha lo stesso tessuto. Adesso magari se diamo una sfogliata, ecco. Vedete, tipo quella con la scritta Auguri, con il babbone. Anche qui, se vi piace la base chiara la potete sempre mantenere. Oppure con la cera anticanti potrete poi andarle a sfumare un pochino. Questa l'avevo vista... No, questa ce l'avevamo avuta ma l'abbiamo venduta. Insomma, comunque sono un po' in continuo aggiornamento anche queste. Finisco la parte in legno con le cartoline. Queste vengono 5 euro. C'è il Babbo Natale, il Bread and Breakfast, il Candy Cane qua. Questa invece è un iniziale e queste sono la musica. Quindi, se vi interessa qualcosa di questo, potete sempre contattarci su Whatsapp. Perché questi ancora non siamo riusciti a caricarli. Il numero è 349-465-6229. Finisco con il tubolar lana e lana in catena. Allora, il tubolar lana normale viene 2,90 euro al metro. E abbiamo il verdone, il rosa cipria, rosso, sabbia, grigio e polvere. Quindi il polvere si abbina poi allo spalmato amore. È arrivato anche il tubolar lana lurex. Questo viene 3,90 euro al metro. Infine, la lana in catena ce l'abbiamo qua. E c'è la lana in catena lurex, panna, che viene 4,50 euro. Mentre la lana in catena normale viene 4,00 euro al metro. Quindi c'è panna e polvere, anche questa. E niente. Questa pure la trovate già sul sito. Invece sotto c'è l'algodon, che è un altro tubolare. E' appena tornata la base, la sfera vintage. Questa bella pallona tonda. Questa viene, mi sembra, a 7,90. Che richiama un po' questa qua, usata anche qui da Elisa nell'ultimo giornale. Ciao Maura. Hai visto? Questa è la sfera di cui ti parlavo. Se no c'è quella punta, questa qua, che abbiamo decorato anche noi. Adesso qua è contro luce, ma ci provo a girare. Eccola qua. Con la rosa d'inverno, che è un altro fustellato, che è sempre disponibile. Questo invece è il manuale. Qui è come se fossero due riviste in uno. Ci sono un po' i cavalli di battaglia. Quindi troverete... Ecco, qui c'è il sommario. Vi faccio vedere questo. Ci sono gli alberi di Elisa, che sono sempre ormai diventati famosi. Le iniziali imbottite. Delle ghirlande bellissime, con gli alberi in legno di Mirta, che sono disponibili in negozio. La struttura dell'albero, bella decorata. Queste sono le paperelle, le oche. Gli alberi sul rocchetto. Questo è un cuore imbottito, che potreste anche un po' profumare. E questo è tipo un albero di quelli un po' più moderni, con le basi in legno, le casette e quant'altro. Anche qui troverete tutto spiegato passo passo, con le varie foto. E anche qui ci sono tutti i cartamodelli. Quindi anche qui il pannolana fa sempre da padrone. Questo qua è stato usato lo spigolino. Sono tutti i materiali. Questo è il trastullami. Tutti i materiali che vedete. Se volete, intanto potete sfogliarle tranquillamente. Poi per qualsiasi informazione ci incontattate, perché abbiamo poi tutto. Quindi abbiamo le letterine in legno, sempre dei nastri di mirta. Questa è una struttura con le casette. Quindi ragazze, c'è da sbizzarrirsi. Manca ancora più di un mese a Natale. Quindi queste cose sono tutte in pronta consegna. Per qualsiasi info ci sentiamo poi su Whatsapp. Ok ragazze, questo video rimarrà poi salvato. Lo troverete anche su Youtube. Per qualsiasi informazione, anche se vedrete questo video tra una settimana e dieci giorni, potete comunque sempre contattarci, perché saranno sempre valide questi prezzi. Per i fustellati abbiamo fatto una diretta dedicata, che trovate anche quella su Youtube. Scusa, Cristina chiede quanto costa il manuale. Ciao Cristina, allora il manuale, questo l'ultimo, 7,90. Sempre con i cartamodelli. Eccolo qua. Mentre l'ultima rivista, questa sta tornando, perché è arrivata ieri ma già l'abbiamo finita, viene 6,90. Quindi se volete anche acquistare i materiali insieme alla rivista non c'è problema. Possiamo spedire tutto in tutta Italia a 5,50 euro, isole comprese. Oltre i 79 euro di materiali, la spedizione è gratuita, ad eccezione delle fustelle, vabbè, delle cose già in offerta, però non è questo il caso. Altrimenti viene comunque sempre 5,50 euro. Va bene? Se non ci sono altre domande vi lascio andare. Ci vediamo poi domani con un nuovo video. E domani faremo vedere i pannelli di idea per creare. Va bene ragazzi, un bacione a tutte e buon pranzo.